Il MoVimento 5 Stelle mi chiedo se condivide la battaglia nostra sul voto disgiunto. È evidente che il voto disgiunto è il punto basico del cosiddetto sistema tedesco. Non è che votando una persona ti tiri il voto fino sul simbolo e sul listino dei nominati. E quindi noi siamo primo per il voto disgiunto, secondo perché si dia comunque la possibilità al cittadino, visto che non si vogliono fare i piccoli collegi, il sistema maggioritario, il mattarello, almeno di dare la preferenza sull'istino. Perché se no facciamo proprio ingoiare agli elettori il 70% del Parlamento. Ma vogliamo scherzare? Grillo ha definito una legge incomprensibile.